partita velocissima la seconda serie del metri mille ragazzi ciao marco ciao thomas forza l'applauso del pubblico ha letteralmente fatto il vuoto alle sue spalle bravo bravissimo il passaggio dei thomas che vale il tempo ma nel tempo forza resisti marco si bravo andiamo a vedere il crono se brava thomas bravo thomas bravissimo dai marco non non girarti marco sprinta non girarti vai avanti e poi via via su filiatri grazie a tutti